Epifani, in bocca al lupo per questa nuova avventura, l'Aquila in eccellenza ma con un obbligo chiaro, vincere per riportare la città intanto in Serie D. Un obbligo doveroso, sicuramente lo sappiamo che dobbiamo fare un grande campionato, dobbiamo vincere, però bisogna farlo con grande umiltà, con grande senso di appartenenza a questa città. Quindi partiamo oggi sapendo di lavorare con grande umiltà e cercare di arrivare alla fine e vincere. Soprattutto sugli esterni offensivi è una squadra di categoria superiore, manca ancora l'attaccante centrale, ma guardando l'organico l'Aquila parte in pole position, lo possiamo dire? Abbiamo fatto una squadra come la vogliamo fare, abbiamo preso giocatori che io conosco, che hanno sposato appena il progetto di questa società. Sono contento, nel mercato sono contento, adesso bisogna lavorare in campo, che è la cosa più difficile, perché è una squadra tutta nuova, quindi c'è tanto lavoro da fare, però sono anche consapevole che abbiamo fatto una squadra forte. Progetto biennale o triennale? Io con il progetto in questo momento bisogna vincere, con la società c'è un accordo biennale, in due anni vogliamo fare grandi cose, speriamo di fare i risultati prima possibile, perché poi la piazza lo merita e dobbiamo riportare la squadra dell'Aquila dove merita.